Ciao Danilo, non mi è ancora chiaro se faccio il cappotto, se la misura degli infissi può cambiare o no. L'agenzia ha risposto e l'Enea ha recepito che se riduci la superficie puoi agevolare comunque la spesa, quindi te, il cappotto, il problema è che vai a ridurre la superficie dell'infisso, perché il problema solito del cappotto è quello. Non c'è problema, ok? Il problema è se aumenti la superficie totale degli infissi. In quel caso non è chiaro se perdi solo la superficie totale, cioè se puoi agevolare solo la superficie totale o perdi tutto. Questo non è chiaro. L'interpello dell'agenzia non ha chiarito proprio questo aspetto. È chiaro che se la superficie totale a fine lavori è pari o inferiore a quella pre-lavori, parlo di finestre, puoi agevolare la spesa con l'eco bonus. Quindi, fai il cappotto, riduci, perché devi fare le spallette, devi vedere tutto quanto, riduci, non ci sono problemi. Grazie. Grazie. Grazie.